Tragedia a Castelnuovo, Cilento, dove nel tardo pomeriggio di ieri è stato trovato senza vita nella sua auto in località Police, sulla strada Salicuneta, Giuseppe Mazziotti, di anni 64. L'uomo, che di professione faceva il pastore, era molto noto nel piccolo comune cilentano e stava rientrando dalla sua campagna. A dare l'allarme alcuni passanti insospettiti, che prontamente hanno avvertito i sanitari, i quali però, una volta giunti sul posto, hanno solo potuto constatarne il decesso. Possibile che la vittima sia deceduta in seguito ad un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Sul luogo presenti anche i carabinieri della stazione di Vallo Scalo, coordinati dalla Compagnia di Vallo della Lucania agli ordini del tenente Sante Picchi.